Buonasera, poco poco meglio. Benvenuti alla seconda serata della settima edizione di Teatramu, concorso generante del teatro dialettale Salentino, voluto da Piero Piasco, in collaborazione con Marcello Melcore, Dino Madarrelli, Adele Carompo, Paola Piccolano ed Elio Costante, con il patrocinio del Comune di Maglie, di ANCOS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato, sezione di Maglie, e da quest'anno anche dalla Fondazione Capece. Ringraziamo l'Associazione Artigiani di Maglie e di seguito poi Caffè della Libertà di Elio Provenzano, Centro Cucine Scavolini Maglie, Candido, Farmacina Tronci, LV Energy Gas Metano Energia Elettrica di Dario Morganti, Ottica Grossi Maglie, Rocco De Matteis, Infissi in Ferro e Alluminio, Zona Artigianale Maglie, Rocco Galati, Creo Parrucchiera di Gori, Annalisa, Via Vittorio Veneto, Roberto Monteduro, Impresa Edile Scorrano. Vi ricordate cosa succedeva la settimana scorsa quando dovevo girare i fogli? Vediamo dopo cosa succede, se vi ricordate. A questi sponsor poi speriamo che nel corso delle prossime settimane se ne possano aggiungere altri per aiutare a coprire l'intero costo della manifestazione che come ben sapete tutti quanti voi è completamente gratuita. La formula è rimasta uguale a quella degli anni precedenti, abbiamo dieci compagnie che saranno presenti nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre. Tra queste compagnie tre sono alla loro prima presenza a Teatramo e anche quest'anno, come dicevo la settimana scorsa, abbiamo allargato i nostri confini facendo partecipare una compagnia che poi è il suo ritorno della provincia di Taranto e una compagnia della provincia di Brindisi. La prossima settimana saremo invece in Piazza Giovanni XXIII, ho detto la volta scorsa una sorta di sedi maglie, anche se non va di moda, va bene, è pericoloso parlare in questo momento, l'ho capito. Va bene, la settimana scorsa abbiamo voluto riservare l'apertura al ricordo di Totò Fracasso. Questa sera per par condicio, mi rivolgo ad Adele che ci tiene, tocca ad una donna e che donna, tutta ad un pezzo, è voluta essere qui stasera dall'alto, dalla simpatia dei suoi 90 anni, vediamo di chi si tratta grazie al contributo firmato di Marcello Melcore. Signoria, di quanti anni che stai qua? Capaci? Di quanti anni? Tu 46. Dal 46? Stavo qua. E come è caricato tutto dal bacchino? Questo del marito mi era mio, te lecce sul tigre, questo c'era già tanti anni fa, poi è venuto da guerra, un uomo, basta. Primo è unico, è solo. Guardate ogni tanto, vedi? Perfetto, bravo. E poi se ne scivo a 54 anni, non portavo qua dentro. La vita era molto bella all'epoca. Guarda, non mi ricordo che sono antica. Quanti anni c'hai? A 90, a Tarrio, sono già su dagli 90. E i figli quanti hai? Quanto a Domeo e la volcettina due. E la cosa che eri volevo fare? Niente, faceva sempre qua, ho fatto la sarta, ho fatto il calzolaglio, ho fatto la ricamatrice dei punti maglie, poi tutto. Poi io sono morto e poi ci successe. E senti qua in Europa cosa, maglie era meglio prima o era meglio noi? Era meglio prima. Perché? Perché erano tutti uniti, erano tutti uniti. Ma tutti, qua tengo una paura quando viene a mano, quando tengo a scuola, ma finalmente sono diffuscata. Mamma mia, uno crita, lauro, castima, lauro, ma c'è già sta cosa. Noi erano educati, rispettosi agli genitori, signoria, c'è comandi. Ma viene, non c'è più queste cose, no. Non c'è. Manco buongiorno già se ne vanno, già se ne fanno come leoni. Mi sai, quando vanno alla scuola, dico per favore, qui ti dite la porta, aprite la porta e dici buongiorno, no. Non c'è un'educazione, non c'è più. Ravine ne hai mai avute? Sì. Davvero? Una fiata, due, una fiata, da fiata, solamente. Tei chiui. Però non stai così impressionare, ma non era cambiata la vita. Allora era come, no, altro pomeriggio. Non è che essere qua, e non c'è. E viene, dopo, sapessi tanti, no? Tutti inmutati, con lo costume. Dice, nonna, come se come andati? Sono stati tutti belli inmutati. Noi sa se vogliamo. Però, dico, papà, mia osta dorme. E tu sei buio, mi nascosti. Dico, e c'è giaccavi lì? Mi dai cinque pacchetti di sigarette. Dato che l'onomastico, ma ci si sveglia, noi le regalamo. E al mio i soldi mi ricordano che quella la porta te ne vai a che filippo stiera per lui il senore ragazza ma l'avete bello l'avete svelta ben ricadati e di vent'anni facciamo falso proprio però toto so eccola qua gira di un attimo il generale alalla grazie 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 teatramo della compagnia del gruppo teatrale super sanese gruppo vincitore negli anni passati di diversi premi e che questa sera ci propone di massimo pantano c'è se pace usposi un figlio eh sì casciati vede sonno tocca a fatico tocca a fatico puro de notte e vuoi per casciati di sonno perché un figlio mio sa sposare ma perché non va c'è credibile c'è ti devi de gridare stanotte c'è ti devi de gridare c'è ti devi de gridare c'è ti devi de gridare c'è sarina come faccio come faccio come faccio c'è successo c'è successo bene bene grazie tutto a posto si e tu come stai devo stare violeta giudizio non telefono cussirma sempre non da fare 5 10 2 3 e 2 papà non cominciare eh non cominciare sai c'è già cosa c'è mamma 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 si scatta lascia mettere che sto nervoso su tutti i lati s'hanno fottuti tutti i soldi erano tiso io mamma tra due giorni cosa lamentava che non ti ne hanno parlo di scarpe eleganti hai mamma mia lascia stare cosa c'è fanzo ma fanno ne pieno parlo di scarpe quelle di mamma quelle blu guida non se niente chiudere la stai a stare e non fare nè ma la sei gurluta nooo 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 ma non è una cristiana per la due giorni medici stile che fa lo sattori nooo 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 ma c'è niente mamma mia ma guardaci qu'è bimbooo signora se vede e io volo così a giochettare un po' noooo io me ne vavo per l'altro del guapo e me ne vavo eh Scusi sempre! Davide, la figlia Mi faccio una capotanta A me pure Via l'argentina Via l'argentina Enzo, allora di tua moglie che in trattoccia stai che la roba ti ha lasciato la sua camera di letto Oh, altissimo Chi dai ci acconsente Dai ci dire, ma non sono giù io 5 seggie 5 seggie Senti le mie E via Vedi Buonasera Buonasera No E noi andiamo a preparare cucina Signora, arrivare subito Vi raccomandare Prego 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 Voi siete i suoceri di Valerio Prego Salvatore Concetta Chi c'è? Piacere Becchie Non sono i soci Ma… No, no, morri, va. Uuuuh, è vero? Grazie, grazie. Ecco qua. No, papà, no. Rimasto curcato. Poi è il figlio di un generale che torna. Ieri in sera mi curcai morto di fame. E stasera torna. Ma guarda, infatti, infatti. Yolanda! 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 Non ho mai visto. Porta? Hai? Allora, ha giù visto? Maricuta? Se facciamo questo appena fatto! Oh, no, è vero! Miracolo, ma diecamini! Oh, mio Dio! Sì, è tutto quello che è successo! Ciao! Presentiamo gli attori. Nonno Luigi Cocco. Salina, Antonella Baglivo. Salina, Antonella Baglivo. Valerio, Sticchi, Salvatore. Salvatore, Amedeo Turlizzi. Beatrice, nonché io, Ilvira Vizzino. Gaetano, Pasquale Corrado. Rosa, Germana Martucci. Concetta, Anna Baglivo. Enzo, Musio Salvatore. Il gruppo di Agrario Super Sanese ringrazia tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questo spettacolo. E un grazie in particolare a voi tutti. Facciamo un altro bel applauso. E noi ci diamo appuntamento per venerdì prossimo. Siamo nei pressi del mercato coperto della Via di Muro, Rione Immacolata. Corri.